Se l'arrivo di Antonio Cassano a Bari resta un sogno ancora possibile da inseguire, il Bari completa la difesa con il 22enne Simone Benedetti, preso in prestito dal Cagliari fino alla fine del campionato. Benedetti è un difensore centrale dalle buone capacità tecniche, particolarmente abile nelle giocate aeree a causa della sua altezza. Nel campionato attuale Benedetti annovera cinque presenze in campionato e una in Coppa Italia, mentre nella stagione scorsa il calciatore si è contraddistinto quale protagonista dell'annata del Padova, dove ha totalizzato ben 35 partite. Cresciuto nelle giovanili del Torino, vanta esperienze anche nella primavera dell'Inter, nel Gubbio e nello Spezia. Bari perché ne parla la storia, ne parla i tifosi, è una grandissima piazza e non si può dire di no una piazza così bella e accogliente. Sono un difensore di questi tempi, ruvido, cattivo e mi cerca di andare sempre a prendere la palla all'avversario. Volevo salutarvi tutti, volevo ringraziarvi di avermi accolto qua nella vostra squadra e sono contento di essere qui e lotterò fino al primo minuto per voi.